Forse siamo giunti alla fine della telenovela Sasha Banks. Per la sezione a pagamento di Fightful, che sto leggendo dal cellulare, la boss è fuori dalla WWE. Stando alle fonti con cui hanno parlato, Sasha ha lasciato la compagnia diversi mesi fa. Dopo una trattativa serrata con la stessa. Ad oggi però la WWE non ha confermato la cosa sui social, non ha detto nulla e Sasha è ancora profilata sul sito ufficiale dell'azienda. Sembra evidente, da quello che scrivono, che le parti si siano accordate affinché Sasha non facesse nulla di ufficiale sino alla fine dell'anno in corso. E proprio per questo lei o il suo entourage hanno sempre dichiarato di non voler accettare ingaggi connessi al wrestling lottato sino al primo di gennaio 2023. Alcune fiere e alcuni show ci hanno provato ad averla, ma Sasha ha detto no. Malgrado alcuni di questi eventi abbiano provato a modificare la loro dicitura o il loro posizionamento da wrestling a intrattenimento. Per poter in qualche modo sviare dal muro che si sono trovati di fronte. Ciò premesso, Fightful dà per certo un accordo di Sasha Banks con la New Japan Pro Wrestling. Un accordo che dovrebbe essere stato già deciso, messo in cassaforte nell'ultima settimana di novembre. Non ci sono invece, per ora, notizie connesse ad un approdo di Sasha in All Elite Wrestling. Ma il fatto che non ci siano notizie non vuol dire che non ci possano essere delle trattative o che magari siano già state concluse. Non è trappelato nulla. Questo è quello che conta. Ci sono anche in giro, non da questa fonte, delle previsioni di ingaggio di Sasha Banks in Giappone. Sono cifre molto alte. Secondo chi le ha diffuse, Sasha prenderebbe un ingaggio elevatissimo, almeno per la prima data, quella di Wrestling Kingdom, lo show più importante della New Japan Pro Wrestling a inizio gennaio. Mentre per quelle successive dovrebbe esserci un sostanziale ribasso. Ma, ripeto, sono rumor, quindi lasciamo perdere le comparazioni economiche. L'ha fatto bene, è super pagata e via dicendo. Perché non abbiamo nero su bianco la certezza? Restano due cose di cui discutere rapidamente. La prima è che, dando per buona Fightful, che ultimamente non sbaglia un colpo, beh, Sasha Banks non è più in WWE. E malgrado molti altri siti ci abbiano detto no, sta per tornare, no, il rientro è dietro l'angolo, no, guardate che è una questione economica, ma si stanno, insomma, appaiando, si stanno risolvendo le faccende, in realtà no. Sasha ha preso la sua decisione, almeno momentaneamente. E la seconda cosa è che, se è vero quanto vi ho appena riferito, si conferma la linea comunicativa della nuova dirigenza della WWE, che ad ora, andiamolo a vedere, di Mandy Rose sul sito ufficiale non scrive niente. Facciamo anche una ricerca rapida in home page. Mandy e non esce nulla. Non c'è Mandy Rose, non c'è Mandy scritto in home page. Sto scendendo per far prendere più più informazioni al motore di ricerca interno, Mandy non c'è. Così come non c'è nulla riguardante Matt Riddle, che teoricamente è sospeso e o è in riabilitazione o ci sta andando. Quindi sembrerebbe che Stephanie e Nick Khan i nuovi co-amministratori delegati e Triple H come capo del creative vogliano tenersi queste cose per sé. Non è di interesse esterno, sono robe nostre. Se un lottatore va, viene o è punito per un comportamento che viola le nostre policy o lo scopre la stampa chiamiamola libera oppure non siamo tenuti a darvene informazione. Può anche darsi che l'uscita di scena di Sasha Banks venga diramata quando scadranno le clausole concordate tra le parti. Quindi fra qualche settimana. o ancora che durante la trattativa d'uscita sia stato chiesto da una delle due parti con il consenso dell'altra di non dare una news ufficiale su quanto accaduto. Quindi l'acqua scivola sotto il ponte nessuno ne parla e quando Sasha Banks farà altre cose sarà lei o saranno i mezzi mediatici a lei collegati a diffonderle e ad informare i fan. Le cose stanno così e ora come al solito la palla passa nel vostro campo. Ditemi qui sotto tutto quello che ne pensate.